Francesca, conosciuta da tutti con il suo nome d'arte Yaya De Rose, è nata il 27 luglio 1981 a Imperia. Ha iniziato la carriera come conduttrice di concorsi di bellezza, sfilate di moda, festival e inaugurazioni. Non solo bella, ma anche talentuosa, tanto da fondare una compagnia teatrale chiamata Musica E. Determinata, fa della sua passione il suo lavoro, conduce delle puntate del canale televisivo Quello che vi consiglio, dove tratta non solo di moda, ma dà anche consigli su come stare bene con se stessi. La sua voglia di aiutare gli altri l'ha portata ad aprire un gruppo su Facebook in forma con Yaya, con 12.000 iscritti, dove quotidianamente parla di alimentazione e di sport. Molto severa con la sua dieta, uno dei suoi piatti preferiti è il sushi. Appena ha un po' di tempo libero, si rifugia al mare, la sabbia e l'acqua salata la fanno sembrare ancora più bionda. Fa pennichelle molto comode e conoscenze con nuovi amici. Il suo compagno fedele di vita è Giorgio, il suo bianchissimo cagnolino che la accompagna in tutte le sue giornate. La sua vita è più colorata quando è in compagnia della sua amica Chiara, con la quale partecipa a sfilate di moda e passa divertenti serate. Ironica, frizzante e piena di entusiasmo, ha anche un lato solitario. Lei stessa dice che nei momenti tristi le piace sedersi sull'erba con la sola compagnia del calore e del sole, ascoltando i rumori della natura e con un salto arrivare a toccare il cielo.